Il punto di partenza sono i reati commessi dai minori e il modo in cui i media raccontano da un lato i fatti, dall'altro le reazioni della macchina sociale e giudiziaria, dai commenti dei cittadini ai servizi di assistenza sociale fino alla magistratura minorile. Sono questi i temi delicati affrontati nell'incontro di sabato mattina in municipio dedicato al fenomeno dei reati commessi dai minori, all'attenzione dei media e alla risposta educativa e giudiziaria. Accanto a due testimonianze video, la simulazione di un processo minorile e il caso di un giovane autore di reato, gli interventi di Elena Buccogliero, dell'Ufficio Diritti dei Minori del Comune di Ferrara e giudice onorario del Tribunale dei Minorenni di Bologna, in collegamento Skype, di Teresa Sirimarco, direttore dell'Ufficio dei Minori di Bologna e di Giuseppe Spadaro, presidente del Tribunale per i Minorenni di Bologna, che ha messo in evidenza la particolare natura del processo minorile. La specificità, che poi è la cifra del processo minorile, dell'intera giustizia minorile, è che si tratta di un processo non contro, ma per il minore autore del reato. È un processo che anziché limitarsi a valutare il fatto oggetto di imputazione, valuta oltre che tutto ciò, e quindi i profili di responsabilità penale o meno, valuta la persona, vale l'intera situazione familiare, l'intera situazione personale dell'autore del reato e tenta di fornire delle occasioni di recupero sociale di quel ragazzo, di quell'adolescente che ha commesso il reato. È straordinario perché ha in sé una valenza educativa, oltre che la risposta sanzionatoria, che è pur sempre giusto combinare. Ma questa valenza educativa di recupero è veramente un qualcosa di formidabile. C'è chi dice che questa attenzione verso l'imputato, anche se adolescente, possa andare a scapito dell'attenzione verso la vittima. È esattamente il contrario. Il processo minorile si preoccupa anche, e ci mancherebbe altro se deve farlo, si preoccupa anche della vittima del reato coinvolgendola nel processo attraverso degli strumenti di risoluzione del conflitto che sono costituiti dalla cosiddetta mediazione penale, che è veramente un qualcosa di straordinario. Cioè delle persone altamente qualificate che riescono a facilitare la comunicazione, a ripristinare la comunicazione che si è interrotta ovviamente nel momento in cui vi è un reato e vi è una persona che lo ha subito.